musica 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 ho preso il carro nanananana fenomenon fenomenon stavo arrivando no non sai che dovrebbe essere sicilissimo se non lo fa niente infatti non sono anche un po' musica musica comunque è figa dai appena sbloccò e mi ha tolto questa arma ma secondo me fatta abbiamo un apc sulla sinistra di b1 sulla strada cazzo che mi blocca il carro e va bene l'apc no non ho zero niente oh cazzo apc l'apc vedo il lavato che bicchia che ci è andato? l'ho distrutto ci avevano munizioni l'apc sono morto ammo pack l'apc l'apc sui gunner che è più utile mamma mia mamma mia no voglio conquistare la flag fai pazza stai in flag l'apc 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 c'è ancora qualche bot in giro no come prima o prende i nomi dei giocatori li trasforma in bot ma non so oppure la gente è scarsa o magari è una manovra per farti sembrare che il gioco è bilanciato per farti fare scoralti PORCUZZIO minchia quattro uccisi uccisi dietro è morto vado un altro prova ad entrare in flag non posso entrarsi ti ho messo la ciascola addosso opps dietro di noi minchia qualcuno che venga su B2 con noi si sta arrivando ne ho investiti tre nel frattempo mortina è andato sono di fianco a voi ok abbiamo neutralizzato gli obiettivi bravo 2 bisogna stati attenti a questo punto qua sulla destra dove c'è la baracca perchè possono arrampicarsi lì volendo dai su un portino sopra è un pezzo morto però dai esce fuori ancora ancora la cazzo ok scoschi ho preso tutti gli obiettivi eliminati quattro uccisi ho preso davanti minchia quante qui mezzo non c'è una sinistra non c'è si mi sono alleato ma è ma qua assiali e qua assiali aiuto non c'è non c'è non c'è neanche il tempo di entrare occhi occhi a destra nooo ah ok ho vissuto la pc si ho preso il lato destro ops ho due pezzi a paro vabbè le quassiali sono attenti a destra in quel veicolo veicolo o vicolo? veicolo no 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 dai le finestre dai le finestre un veicolo un veicolo riparo no 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 voi che vabbè si Charlie 1 fuori ogni tanto polpodio ma non riesco a beccarlo non lo so si, coricati furbo stai dentro no e devo premere 2 volte per spottare firme sopporto adesso si sei vivo eh si veniamo alla strada ma io non posso tipo no eh non so mi sono fatto bene entrare qua si è un po' glitchato ma c'è qualcuno qui di dietro o no ok soldier you have good work ok ah girano dai potenti conquistare piranatine di merda faccio volte a fare di merda dove sono morto io eh ma attento al pieno abbiamo controllo Charlie 1 oh sto cazzo di carro che esce fuori così non ci si due va cazzo oh devo fare c'è un altro occhio dietro bene tutta percorso percorso porca puttana questo 120 mm d'alto potenziale che male cos'è we're just beginning our offensive to break enemy line yeah peace cheese cheese occhio da quel poverostro se non non percorso 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 è stato c1 ma dai la gente non push beh pushamonosci vabbè questa gira mi tira un colpo e muoio non lì lì sono da quella artiglieria eh l'ha amato ma gli aiuto mica spawnano proprio davanti oh che cazzo è stato eh secondo me è uno dei black secondo me è qua davanti un pochino lo tipo qui ecco sì sì l'ho visto ho visto non so ci sono qui la madonna quanta gente via 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 mi hai fatto un cazzo bello come la parola che mi sorghiina sarebbe per dire pericolo ahahahah non so neanche come si chiama eh come un cavallo Angel colpisci anche no vada 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 fiero vada vada la vuole la key la vuole la key di quello invece che vado indietro qua che vado a vedere il vicolo cosa fanno di bello la gente non ha capito che è il piano di sopra e non riesco a bombardare si vuoi bombardare dal carro? no ho provato prima io cos'ho quanti punti ho? ah artillery ready for barrage ok ok ho mandato porco dio cos'hai mandato di bello il predator l'artiller artillery cover come get ready to engage oh dietro ancora in mezzo proprio fantastico niente 2 artillery ready for barrage basco ma sto qui citta di brutto poi non so se posso cacciarlo dentro cioè se lo caccio qua gli faccio male nella struttura ehm deve provare no non sa che devo lanciarlo ma ho sbagliato occhio supporto un datto bichiatto 3 3 ammazzateli ehm provo a fare sta arrivando un'artiglieria di settore oh guarda la distruttibilità abbiamo un team che sta tutto da allora aspetta che provo a vedere che cazzo c'ho di di cose io oh si mettiamo su c1 il razzo vediamo un po' ora ci entriamo dentro così sbudiamo poi si scopre che non fa niente se ti immagini ehm magari non è giusto sverimentare vediamo così se si può mmm era quello? no no sta ancora arrivando eccolo ok ok fa 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 libero l'edificio lo libero lo libero infatti è proprio una roba di radar cazzo se qualcuno si trova là dentro muove da porco dio di nuke non lo so io sto farmando kill come lo schifo moriamo te lo dico alliazze attacchiamo charlie 2 è il momento di intensificare il nostro attacco per rompere le defenze lo schifo è entrato in casa morendo di lato di lato boh charlie 1 ha stato neutralizzato eh charlie 1 ha stato neutralizzato grazie a cazzo figa dopo che abbiamo gettato addosso il crist eeeh leh quello? ma qual è? ma? ok nooo mi si è bancato su tutto nooo ma chi è quello? quello sull'arbitragliato risale eeeh non te lo pinga alcune volte l'alleato noi abbiamo capito il target ok ok ma questo è il nemico no supporto la charlie 1 sotto attacco dall' enemigo due supporti troie metri morti anche ok uno l'ho ucciso l'altro porco dio qui sono grazie Emma fammi tenere uno cazzo no non posso tirarla no 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 mi state investendo non preoccupare quanta gente sto colpendo piga è charlie 1 ancora no c'è uno ah ok boh mazzo gente travesse la smoke no oh ma madonna il caro cazzo oh che roba ah 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 sarebbe da prendere c2 cazzo piuttosto che ah la prima prova l'abbiamo tenuta eeeh ci sto provando a catturarlo c2 Spawno uno qua davanti! Ma che cazzo vuol dire? Porco Dio! Non lo so, Yu-Gi-Oh! Porco Dio! Vabbè, ma non ci fa nulla a noi! Peso! Aspetta che mi lievo dal cazzo! Ah sì, sono sicuro che non moriremo per colpa di Eva! Lo sopporto, boh! E questo comunque si chiama... Stupro, sei proprio... Insensato! Ah! Non posso sbagliare! Stupito! Destra? Mi serve delle a cura! Quella è grande! Andarcene dal cazzo! Ok no ok, ma sta riparando? Non ci moriamo dal cazzo per niente! Mortini! Moreriamo in sto carro! Sì, Marcozio! Mamma mia! Poca troia! Madonna! Che stupro! Che stupro! Vorrei anche vedere! 108 kill hai fatto! E va bene! 382 assist 179 assist F*** Madonna! Quanto cazzo errore!